Può dirmi perché ha deciso stasera di venire qua in Piazza Duomo? È un mio grande amico, abbiamo scritto un libro poco fa insieme e ho seguito questo straordinario così diciamo, appellante, come si diceva una volta. Questa festa incredibile, bella, con una progressione straordinaria. Tutto, tutto mi aspetta. Io spero che si ribalti veramente la cosa.